Mirror, mirror Probabilmente Mioppo ha capito Poco di secondo Benvenuti, bentornati a questo video un po' troll Con la maglietta dei Fem, tra l'altro Ferrara Magic, a caso In realtà niente sponsorizzazione, niente cose Anzi, se mi vogliono pagare meglio E niente, stasera facciamo Facciamo questo video Visto che c'è questa modalità Che si chiama Mirror, mirror Che costa 500 gold Ma se vincete vi danno E dove potete giocare Le carte bannate Ma con dei reward Per esempio, once upon a time Al posto di costare 0, costerà 1 Ok, al posto di fare più 2 più 1 Farà più 1 meno 2 Che così forse era un place worker Decente Visto che prima Col più 2 Andava fuori tutte le rimozioni del formato Quasi Fa food Rimane a fare food Col meno 2 Fa la stessa cosa di prima Un artefatto O una creatura bersaglio Per tutte le abilità Diventa un alce 3-3 E meno 5 Cambiamo il controllo Del nostro artefatto O della nostra creatura Con una creatura Della bersaglia Che costa 3 o meno In questa Credo che fosse un po' diverso E Uro Uro Non rampa più Fa comunque pescare A fare 3 vite Ma non rampa più Secondo me Non dovrebbe far pescare Secondo me È anche quello lì Il problema E se esistesse un Uro Così su Arena Sarebbe comunque fortissimo A mio parere Questa modalità Vabbè Nissa Quest in Beast Wicked Wolf Crysis Edergast Perché tanto giocheranno tutti O Quest of Fires Of Invention E Ragazzi Questo Secondo me Io non vorrei fare Complottista Stanno pensando Di fare una modalità Con i reward Posso mirormirlo Il palesimento È una cosa un po' troll Un po' un evento Comunque per giocare Per divertirsi Anche il fatto che Costa 500 gold E poi te le ridanno Fa un po' ridere Sicuramente per far mimare Un po' Eccetera Anche molto per il content creator Infatti ringrazio Però Diciamo che Mi verrebbe da dire Che Ci stanno pensando A fare magari Un formato Solo su Arena Dove possono fare Quello che vogliono Modificare Fare Disfare Eccetera 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 Questo mazzo qua Tra l'altro È straforte Soprattutto in Magari in historic Dove puoi fare Rampo a turno 1 E a turno 2 Fareoku E Ragazzi Come avete visto È devastante È fatto a turno 2 Anche se Anche nerfato È devastante È fatto a turno 2 Mi matto Un po' Lo zio Perché Fu il video Che fece Esplodere Lo zio Garbe Quello di Il mazzo Solo Ok 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 E niente Raga Secondo me Diciamo che Queste carte qua Non sarebbero Bilanciate Nemmeno Se fossero così Forse sono Once upon a time Perché il fatto Di costare 0 Cambiava molto Invece così Facendo A turno 1 Fai una scelta Se fare Mana d'orc O fare Once upon a time Chiaramente Tendenzialmente Fai mana d'orc Mentre Oko E uro Sono Proprio Carte Scritte male A sto punto Mi verrebbe da dire Perché uro Lo fanno così Che non rampa Perché Dovrebbe essere L'anti croxa L'opposto di croxa Che fa scartare E perdere tre vite Però Come sappiamo tutti Croxa È il cugino Scemo di uro E scartare È una cosa Molto 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 Più scarsa Che pescare Pescare È sempre Una cosa Troppo più Forte Oko E poi fa anche Tre vite Non abbiamo risolto Niente Non hanno capito Perché questa è Forte Se ce la rilasciano Così Fidatevi Vi giuro Che la gente Lo giocherà Lo stesso Oko Anche così È una carta rotta Splashabile In tutti i mazzi Non so Se la gente Splasherebbe Per giocare Oko Ma a mio parere Anche così Rimane una carta Straforte Perché il fatto Di trasformare Una creatura Dell'avversario Un 3-3 Un artefatto E fargli perdere Tutte le abilità È una roba Troppo forte Lo puoi fare Su Emrakul Cioè raga Ma questo Questa è Una carta Secondo me Di base Scritta male E Sarò di parte Ma secondo me È forte anche così Ma lo vedrete Faccio anche altre partitelle No? Così per ridere Bene Prima di iniziare Vi ricordo che Il mio canale È supportato Da Multiverse of Games Dove mi troverete Ogni mercoledì sera A giocare Modern Finchè non vado in vacanza Chiaramente E Mentre La domenica 18 Luglio Fanno il Big Modern Iscrivetevi I posti sono limitati A 60 posti E io Mi sono già prescritto E giocherò Spaccherò tutti Non so Se vi provocare L'IZ mio O l'IZ di Riz L'IZ di Riz È molto molto difficile Mi fa molto piacere Trovarvi In questo periodo In vari tornei Dal giocatore medio Bologna al com Se mi beccate Salutatemi pure Io faccio due chiacchiere Volentieri con tutti E Niente raga Sono Sono veramente Euforico Come direbbe qualcuno Di giocare di nuovo Oka Oka Fa straridere comunque Comunque molto meno forte Perché il fatto di All'inizio Non fare subito Il 3-3 È a volte È una cosa Un po' Peccaminosa E il fatto anche Di non andare su Di due alla volta Lo rende Molto 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 Più Vulnerabile Alle cose Varie E niente Raga Ehm Giochiamo Dai Facciamo un po' Le partite Oltre a quella Che vi ho fatto vedere Mirror Mirror Specchio Specchio Delle mie brame Questo È Occo di secondo Forse Oh Non far Me shock Eh Eh Eccolo Eccolo qua Lo ricordate Questo È un po' Cambiato Col Più Uno Crea Food Come Prima Non come Prima Perché Vabbè Come Prima Non come Prima Perché Dava Più Due No Col Meno Due Quell Artefatto Creatura Per Tutte Abilità Diventa Un 3-3 Elk Alce E col Meno 5 Possiamo Cambiare Il controllo Di una Nostra Creatura O di un Artefatto Con Una Creatura Dell'avversario Che costa 3 O meno In realtà Un po' Il nerf C'è Stato Eh Però Cioè Avremmo Avuto In questo Standard Ancora Adesso Un mazzo Così Con Imana Dork Questi In beast Nissan Non c'è più Meno male Pazzesco Che schifezza Che schifezza Sta roba qua Certo Tutto Certo Ti giro tutto Guardate Che roba Avremmo avuto E' fatto Explore Che schifo Che schifo Rega Mi faccio schifo Cioè Un mazzo Così Come pot Cioè Pure nerfato Cioè Mamma mia Va veramente Cagare E sta molto Molto meglio Non Facciamo Le nostre cose Turno Uno Però Vabbè Possiamo Mettere Forse Giù Questa Le terre Ci servono No Però Siamo comunque On the draw Io farei comunque Terra elfo Perché Si No Terra elfo E' più forte Se non me lo rimuove Esatto Stavo dicendo Non me lo rimuove Farei così Farei Once upon a time In hand E' rimasto instant Meno male Anche questo Cosa abbastanza Rope Eh Dobbiamo prendere Le terre Purtroppo Non mi fa pescare L'uro Maledetto X Forte Forte La narsetta La narsetta Monella Eh Non pesco Anche questa cosa qua Della cicla Cioè Tu non tre Se faccio Stavo qua E pescavo E era troppo Broken Troppo Troppo Broken Loro Veramente Non si rendono conto Di quanto siano Forte alcune carte Oh Nicola Questo è Nicola Quello a 7 Dio faraone Questo è forse Uno dei disegni Più belli A parte Quello di War Quello di War Of The Sparks Credo che Sia a mani basse Il più bello Di tutti Però anche questo Se la caricchia Blu 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 Facciamo il nostro Wicked Wolf Che ha visto E fightiamo col niente Sicuramente Toglieremo la narsetta Se si riesce Perché facciamo Uro Una certa Attenzione Allora facciamo Goose Così abbiamo Il nostro Wicked Wolf Che si salva Col food In caso Di rimozione Vabbè Così intanto Mi toglie solo Goose No? Va bene Hai fatto Ah però Mi ha tolto Pure quello E' vero E' vero Non ci avevo Pensato Beh io ti faccio Comunque Questing Beast E ti giro Per sette No? Che dici? Che dici eh? Il Dio Faraone Va bene Hai fatto Dio Faraone Cosa fai? È bello Cosa fai? Target Up And Excise E puoi giocare Questo Uh Eder Ghast Fortissimo Ah però Fino alla fine Del turno Allora Ci sta Z No Decline Mettiamolo sotto Pesco una bella Nissa Nope Va bene Ecco lui Chiaramente Facciamo danno Anche a Nicola Facciamo un Krasis Tristissimo 3-3 Che pesca Una garda Sola Una garda Sola Once upon a time L'hai fatto Ma non so se c'è Le creature Ah ce l'avevi Le creature Va bene L'hai fatto Colgo Locasi A scanta L'hai fatto Allora Se facciamo così Mi sa che ho vinto io Full controllo Lupo Risolve Risolve Lupo Faitiamo Col lupo Mi spacco Food Col lupo Forte Anche così Il mazzo Dai Anche senza Fare Oco Che schifo Che schifo Ma questo Ma questo Tiro a giro Ma questo è Occo di secondo Pure peggio del tiro a giro Questo Non so se vogliamo fare Ghast Su quella Occo 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 Addirittura Brasen Borrowers Food Mingha Addirittura E mo che fai In GKong Bon crash E vado Bon crash Eh io Allora Andiamo di trioma Passiamo Ehm Va bene Poi Beh attacchi lì Ehi Te lo metto in cima Forse devo fare Terra stappata Anzi Toadgo Forse Devo farlo Con la terra Stappata Ok Teffrino E che mi togli No food Mi togli Wow Mica Ti fanno proprio paura I miei food Ma sai che te dico Che questa è Nissa È Nissa Che picchia Tanto Il quest in beast Ce l'abbiamo in mano E fa il suo Lo casti così dalla mano L'hai fatto zi L'hai Fatta E allora Allora Prima facciamo questo Quest in beast E fin qua Nulla ci piove Facciamo questo Facciamo diventare Questo qui Un 3-3 Va Io qua Girerei tutto No? Tra l'altro C'ha quasi pure Tutto da utela Bloccherà Quest in beast Penso Ah Blocchi la terra Incredibile E c'è pure Rimozione Wow Comunque non mi aspettavo Che mi avrebbe bloccato Mi avrebbe Rimosso così Pensavo Mi avrebbe bloccato Quest in beast Ah C'è la Vratun Eh vabbè Ha fatto Vratun Questo entra Comunque Questo entra Comunque Questo fa Comunque Un bel Le picchia Per 7 Vai Hai un altro Vratun Minchia che forte Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ma Credo comunque Che siano letali No? Così Così Capiamo La terra Facciamo Quest in beast Animiamo Oltre 3 No in realtà Potevo animare Semplicemente Il 3-3 So che c'è tanta gente Che arriva in fondo E non faccio mai saluti Quindi A sto giro Vi mando un saluto Grazie mille Ci vediamo ai tornei Ed è una cosa Veramente bella da dire Grazie mille